Quali sono le associazioni di Vip Vicenza? Quali sono le associazioni di volontariato come noi, quindi siamo persone che svolgono i lavori più vari e che finono il lavoro. Il martedì sera per l'esattezza a Vicenza andiamo all'ospedale, indossiamo il nostro bel naso rosso, ci trucchiamo delle volte con un bel camice un po' colorato e andiamo nei reparti di chirurgia pediatrica, maxillofacciale e ortopedia. Cerchiamo di portare il sorriso, non sempre ci riusciamo però è già una cosa bella l'accoglimento da parte di tutti, sia dei più piccoli che dei più grandi.